Va bene? Va bene il mio maestro Ok Chi è questo qua? Chi è questo? Chi è questo? Chi sei tu? Pietro? Vieni giù va giù Pietro? Ambrogi Cosa fai? Pilota Devi entra prima dritto dentro i birini E poi fai lo slano Come si chiama questa gara? Cara dei carrozzoni Chi serve? Che serve? Che serve? Che ne so? Ci fa una gara Ci fa una gara? Che festa è oggi? San Dandoni San Dicidoro San Dicidoro Povera Italia Gabriele tu che fai dietro? Tu che fai dietro? Spingo Spingi che cosa? Che cosa? Garottone? Come si chiama questo qui? Questa è la McLaren Funda Chi l'ha fatta? Al Cilio Al Cilio Al Cilio Al Cilio Allora aspetta un attimo che io vado via Eh? Dai di te per voi Gira Giramom Eccoli qua Piano piano e' vai Vai con loro eh Però non tagliamo l'aria Vai di una violenza. 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 Vai di una violenza.